Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tutto pronto per la notte di Halloween, oltre a vetrine con qualche richiamo tra costumi ed effetti speciali, il Comune è pronto ad accogliere i bambini al Castello di Teramo che sarà addobbato per l'occasione. Un momento divertente ma anche didattico per i più piccoli che dovranno scoprire i misteri del Castello della Monica. Il Castello della Monica sicuramente si presta per Halloween e chiaramente noi abbiamo dato un taglio ludico, didattico, perché il Castello della Monica con tutti i suoi volti, tutti i volti impressi sulle mura, gli affreschi eccetera della Monica si presta tantissimo anche questa caratteristica un po' così tenebrosa come tutti i castelli. Quindi abbiamo pensato insieme al Polo Museale di organizzarlo qui e ci sarà una caccia ai dettagli. I bambini in questo gioco dovranno cercare dei dettagli all'interno del castello, circa 4 dettagli a bambino e una volta trovati uscendo fuori riceveranno un premio dolce, quindi caramelle e dolci a tema. Quindi abbiamo voluto unire questa festa che è una festa chiaramente non nostra, che abbiamo importato un po' dall'America. Abbiamo voluto dargli un taglio più culturale ma anche giocoso per i bambini. Come tutte le feste possiamo dire un po' di respiro ce l'hanno anche i commercianti. Siamo andati un po' ad ascoltare le loro impressioni e ci hanno detto che ovviamente le difficoltà si sentono però qualcosina è stato venduto di più anche grazie alla festa di Halloween che verrà qui questa sera. Sì ma poi tutte le iniziative che ne portiamo avanti come ente in qualche modo hanno sempre dei risvolti a livello commerciale quindi siamo contenti che anche questa attività si sia trasformata in una ricadota economica per chi in questo momento vuoi il caro a bollette e vuoi tutto il resto è chiaramente un po' in difficoltà. Noi dobbiamo fare sempre la nostra parte, poi è chiaro che il resto viene da sé anche con tutte le attività di eventi in generale sull'estate è stato così. quindi sono contento insomma ma insomma era quello che ci aspettavamo insomma dell'organizzazione di un evento.